Movida e Baby Gang, un mix esplosivo in centro storico a Bassano, insulti, spintoni, calce e testate, aggredire per Noia sembra essere diventata l'ultima moda in fatto di divertimento tra giovani e giovanissimi. Nel fine settimana di bevuti in compagnia la Movida si fa molesta, un fenomeno che preoccupa. Il problema è di sicurezza, di decoro, di ordine pubblico, di tutto quello che vuole, però a un certo momento o chiudiamo a una certa ora via tutti, però dopo via tutti non vanno perché si accampano fra virgolette di qua, di là, di su, di giù e fanno ulteriori disastri. 16 giovani tra i 14 e i 20 anni denunciati dalla polizia locale per le aggressioni ad un coetaneo e un cameriere entrati nel loro mirino. Bande di ragazzini che scorazzano per il centro e zone limitrofe con soldi in tasca per bere e fumare. Una Movida che si fa molesta come peraltro sta succedendo anche in altre città del Veneto dove si sono scelte misure estreme come chiusure e accessi contingentati. Abbassano? Non so se Abbassano sia applicabile a un discorso di questo tipo. Penso che la restrittività non saprei, insomma, io non la vedo positiva. Vedo positiva l'educazione, vedo positivo un continuo e costante controllo. Forse un maggiore controllo è sempre auspicabile prima che il fenomeno degenere ulteriormente con conseguenze anche peggiori di qualche dente o costola rotti, giovani figli di un troppo perversivismo. Loro si sono trovati che possono far tutto e lo fanno. Un po' alla volta devono rientrare nei ranghi e riattivare la loro intelligenza e la loro, come dire, educazione.